Filippo Facci, protagonista della terza serata del Festival Ecologica, la rassegna promossa dalla Casa dell'Energia di Arezzo in collaborazione con Coworking WI 5200. Negli spazi dell'Urban Center di Via Leone Leoni, il giornalista ha presentato il suo libro 30 aprile 1993, Bettino Craxi, l'ultimo giorno di una repubblica e la fine della politica. È la storia della prima repubblica che è finita dopo le monetine a Raffaele, dopo tutto quello che è successo e oggi ci interroghiamo anche con questo libro scritto molto bene da Filippo Facci quello che è successo. Era proprio così che doveva finire la prima repubblica? C'è la mancanza, la domanda che ci facciamo è c'è la mancanza di quella politica lì? Probabilmente sì, nei suoi grandi attori. Craxi è stato un grande attore di quel periodo storico e forse non era proprio tutto da buttare quello che è stato fatto in quell'epoca lì. Nel libro l'autore ripercorre infatti il famoso episodio del lancio delle monetine davanti all'hotel Raffaele. Stiamo parlando comunque di un lancio di monetine che virtualmente ci fu in tutta Italia, perché intanto avvenne qualcosa in tutta Italia in corrispondenza di un atto democratico. Perché Craxi era stato salvato per quattro richieste di autorizzazione a procedere su sei, legittimamente, democraticamente in Parlamento. Non si tenne conto della votazione democratica, infatti fu rinviata e rifatta completamente l'autorizzazione a procedere di lì in poi proprio come regolamento e quindi finì in coincidenza un certo ceto politico.